Ciao a tutti, nel video di oggi voglio presentare finalmente il mio libro, che è uscito proprio oggi, anche finalmente nel formato cartaceo. Il mio libro nasce dalla mia passione per la scrittura e per la lettura, e in particolare per il fantasy, per la storia, per i miti e per le leggende. Tutti questi ingredienti sono inseriti all'interno del mio libro, che è il primo di quella che spero sarà una bella saga che mi accompagnerà per tutta la mia vita. Sono già in scrittura del secondo libro, lo sto già scrivendo e ho già scritto parte del resto della storia, che però devo rivedere. Ma questo non ti interessa? Detto questo, il libro appunto si trova su Amazon e il libro è autopubblicato. Ho fatto questa scelta perché in questo momento Amazon sta crescendo enormemente e fortunatamente anche le mie attività online si stanno potenziando, quindi ho deciso di rimanere libero, diciamo, dal punto di vista della pubblicazione e ho autopubblicato il libro su Amazon. E il libro appunto si trova già su Amazon, voi potete semplicemente cercare Bellator, uffa, Bellator Est Lux. Bellator Est Lux, eccolo qui, si trova sia nel formato Kindle che nel formato copertina flessibile. Se cercate Federico Aviano oppure anche Il Guerriero della Luce su Amazon otterrete lo stesso risultato. Qui potrete leggere la trama, potete anche seguire il mio profilo e conoscere qualche altra informazione su di me se è la prima volta che vedi la mia faccia. E poi qua ci sono tutti i dettagli del libro, qui c'è sempre la mia bibliografia, sì, si vede che sto facendo la tesi universitaria. La mia biografia e poi c'è anche la lunghezza del libro che non è un tomo, diciamo, illegibile. Dovreste trovarvi bene. La copertina flessibile, come noterete, ha più pagine. Il formato Kindle comprime un po', quindi sono meno. La lunghezza esatta sono 366 pagine, in realtà però sono solo 80.000 parole. Come vedrai, se prenderai il libro, e ti consiglio di farlo ovviamente, il libro è scritto in una maniera, diciamo, ritmicamente serrata. Cioè ogni capitolo si sussegue all'altro in modo assai veloce e è un tipo di stile mio, diciamo, che io faccio fatica a tenere una trama lunga, descrittiva per tanto tempo e quindi io, che sono un po' a compartimenti stagni, ho suddiviso la storia in tanti piccoli capitoli che si susseguono in un lunghissimo arco spazio-temporale e poi vedrai, insomma, avrai modo di conoscere tante cose sia personaggi storici realmente esistiti, da cui ho preso ispirazione e in particolare ho sempre cercato di attenermi a quella che è la vera storia e poi ci sono anche tantissimi appunto miti, leggende. Questo è un progetto che tra l'altro ho scoperto essere stato ideato anche da Tolkien Tolkien che poi non lo ha mai realizzato. Per chi non lo sapesse, Tolkien è il mio punto di riferimento non solo come scrittore ma anche come persona per le cose che ha fatto nella sua vita e avendolo scoperto quasi verso la fine della stesura di questo libro, quando mi sono messo a leggere le lettere di Tolkien per me è stata una soddisfazione immensa avere portato a termine la prima parte di un progetto che ha pensato anche lui prima parte perché appunto, come accennavo, questa vuole essere una saga e niente, questo è il primo libro, è già disponibile, potete appunto acquistarlo, il prezzo è veramente veramente basso perché a parte che col Kindle al limite è gratuito, poi se lo volete acquistare in formato Kindle costa solo 89 centesimi neanche un caffè e addirittura la copertina flessibile sono solo 9,98 euro quindi dai, neanche 10 caffè, anzi molto meno veramente un niente per un libro che ha tantissime tantissime cose al suo interno spero che tu riesca a seguirlo, che non siano troppe e spero che tu ti diverta come mi sono divertito io a scriverlo concludo dicendo che io non sono uno scrittore, non ho alcuna ambizione ad esserlo fortunatamente ho già un lavoro e lavoro su un campo che mi piace tanto che è quello del marketing e del web quindi questa è proprio una mia passione personale che ho veramente tenuto a portare avanti e a concludere perché mi sono accorto che quando lasciavo in stand by questo progetto ero incompleto come persona e quindi sono veramente veramente contento di essere giunto alla fine e ti sarò immensamente grato sia che tu lo acquisti sia che tu non lo acquisti perché comunque mi hai seguito fino adesso e per me è già un successo personale molto grande quindi grazie mille e ci vediamo col prossimo video ciao ciao